I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato un 19enne trapanese con precedenti di polizia per furto in un esercizio commerciale. I militari dell'arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, sono stati chiamati a intervenire presso un'attività commerciale della città dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta all'interno del negozio. Giunti sul posto, con una dettagliata descrizione del soggetto e degli abiti indossati, gli operanti hanno subito notato la presenza del 19enne intento a lasciare l'attività commerciale guardingo e con passo spedito. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, sono stati rinvenuti indumenti nuovi etichettati, risultati da accertamenti oggetto di furto per un valore di circa 150 euro, motivo per il quale il giovane è stato arrestato. Grazie. Grazie.